Siamo qui perché c'è un incontro sui libri, perché oggi in questi giorni c'è un festival che si chiama Bungo Festival, che offre ai ragazzi e ai bambini delle scuole tanti incontri con gli autori. Bene, oggi sono qui perché ho scritto un libro che si chiama A Sai piaceva il mare. Oggi ho condotto alcuni laboratori con i ragazzi delle medie sulla scrittura e in particolare sul libro accessibile. Cosa è un libro accessibile? Cosa significa avere tra le mani uno strumento che non è per qualcuno ma è per tutti perché aggiunge più linguaggi e quindi rende più facile l'accesso al libro. Sono stati laboratori per capire cosa significa scrivere in maniera diversa, avere un accesso diverso alla lettura e anche scoprire che magari la scrittura ha qualcosa di bello in sé che prima non conoscevamo. Il festival ha dato un'occasione importante per avere un contatto diretto con i ragazzi, sperimentare concretamente, conoscere nuovi strumenti, ma anche capire che c'è modo e modo di approcciarsi al libro e più strumenti aumentiamo, più linguaggio aumentiamo, più facile diventa il contatto con i contenuti.